ladies and gentlemen oh iopi po this is show time a belle casa a belle mia iscrivetevi al canale se non vi piace quello che dico è un momento dove la democrazia è come il basso costo dell'energia elettrica in Italia vi lascio fare come vi pare a belli de casa è arrivato pure il 12 barra primo portiere della Lazio perché dico barra 12 perché ragazzi anche se Erzor Massimiano ci è venuto a costare di tin di tin di tin di tin dai soldini forse provvedelle nelle gerarchie Erzor Sarri è quello più pronto adesso levare il posto a Massimiano che si è fatto tutto il ritiro tutte le partite tutte le amiche precarponato stendiamo un violino pietoso sulle ultime partite di campionato speriamo che recupereremo brillantezza da qui a domenica mi pare cioè non so se è una cosa da Sarri non premiare un ragazzo che si è fatto tutto il ritiro quindi vabbè staremo a vedere a pochi giorni sapremo chi sarà chi difenderà i pali nella prima di campionato a proposito di difendere i nostri colori complimenti ai quasi 24.000 abbonati oggi ultimo giorno se potete andate c'è rimasto qualche distinto anche perché se la matematica è un'opinione se andate a comprare le prime tre partite per venire a vedere le partite le prime tre sono quasi metà abbonamento quindi ragazzi accorrete accorrete potete far cambio denominativo riempiamo questo stadio perché potremmo dare noi una spinta un aiuto di più a questa squadra e un applauso a 24.000 che nonostante tutto nonostante nessun nome roboante nonostante tante cose che stanno succedendo in città saranno presenti allo stadio olimpico a difendere i nostri colori che sventolano dal 1900 nella capitale e basta non sto qui a fare polemiche con altre squadre altri mercati chi mi conosce sa che io mi interesso solo della Lazio parlo di altre squadre quando le incontriamo parlo di altre squadre quando mi fanno delle domande durante i live e a proposito presto tornerò in quel di New York e inizieremo a fare anche le live ragazzi non vi ho abbandonato riparleremo rifaremo le nuove donazioni perché vedete i soldi stanno lì nessuno li tocca faremo le prossime donazioni rinizierò a parlare con i ragazzi che sono abbonati c'è avuto un periodo molto intenso chi mi conosce chi mi segue su Instagram sa quindi non sono stato attivo al 100% ma quello che io prometto lo mantengo oddio sembrava Ambra Angiolini e adesso giuro vabbè quindi ragazzi eh sì manca un terzino sinistro manca il vice giro eh Luiz Alberto io sono il primo che l'ha sempre preso due pesi però ragazzi Luiz è è loco però ragazzi per farlo passare come una pippa uno che è stato rovinato alla Lazio no eh per favore e io sono il primo che è sempre andato contro io sono il primo che l'ha sempre pizzicato quando sbagliava qualcosa ma a farlo passare come una rovinata alla Lazio una pippa no è uno che ha sempre detto non ha mai nascosto di voler tornare a Siviglia è un po' romagnoli spagnolo nel senso come romagnoli voleva tornare a giocare alla Lazio lui vuole tornare nella sua Siviglia a lei anche se Isco da quanto pare qualche problema lo dà Isco l'ha provato in Siviglia ragazzi ragazzi niente domenica forse riuscirò a vedere la prima di campionato all'Olimpico sto vedendo quello che succede e poi si torna a New York Lazio Club sarà presente io sarò presente e grazie a voi che ci avete aiutato grazie a voi che mi siete stati vicino sarà un'estate è stata un'estate per me particolare come era stata per alcuni di voi sicuramente per altri motivi però ricordatevi che chi se fa l'affari suo campa cent'anni ultima cosa Falco Davide sempre con te ti voglio bene ti voglio tanto bene ci siamo capiti lo sai ci siamo sentiti però perché sennò dice che non sente no io me nascondo mai ti voglio bene e spero di abbracciarti presto comunque domenica vedrata 48 poi dopo si va a New York volando perché noi volamo che l'artistrisciano comunque sempre in quanto tutto